Tempo di cambiare, episodio 10 Ciao, sono Italo Cillo Questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it È l'indirizzo web a cui sono archiviati tutti gli episodi passati, presenti e sperabilmente futuri di questo podcast Gli ultimi due episodi, l'ottavo e il nono, hanno suscitato un potente dibattito Il dibattito è naturalmente se e in che misura questi concetti di sovranità individuale che abbiamo esaminato negli ultimi due episodi Anzi, ti incoraggio affatto, gli episodi ottavo e nono sono due episodi abbastanza importanti e fondamentali per proseguire Se e in che misura, dicevo, questi concetti di sovranità individuale che stanno funzionando nel mondo anglosassone Si applicano o meno anche a nostra situazione italiana Oggi continuiamo in parte questa indagine Anzitutto però fammi ringraziare Marisa Marisa ha messo ancora una volta a disposizione della comunità degli ascoltatori di Tempo di cambiare la sua opera di trascrizione Quindi ci ha passato la trascrizione dell'episodio numero 7 Ho avvisato, appena è diventata disponibile questa trascrizione, ho avvisato tutti gli iscritti alla mailing list Naturalmente ho potuto avvisare solo quelli che hanno lasciato la propria email Ecco perché ripeto sempre che è importante farlo in caso di novità, nuove iniziative, cambi di programmi, edizioni straordinarie, soppressione di episodi e così via Fra l'altro so anche che stanno per arrivare altre trascrizioni di altri episodi passati e così via Bene, io posso avvisarti di questo soltanto se tu lasci, ti iscrivi alla mailing list C'è un form molto semplice che ti chiede nome e indirizzo email E il modulo che trovi subito sotto il pulsante su cui si clicca per scaricare questi episodi Poi c'è da dire che siamo ormai al... mentre registro al 6 di giugno Al 6 di giugno quindi sta iniziando la stagione estiva E durante questa stagione so già dirti per certo che la... come si dice... periodicità di questi episodi diminuirà Nel senso che non sarò più in grado di farne una settimana Ma sarò in grado semmai di farne uno ogni tanto o uno ogni 15 giorni o uno quando è possibile In questo caso la mailing list potrebbe diventare l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per tenerci in contatto Venuta meno la periodicità E potrebbe essere l'unico mezzo che io avrò a disposizione per avvisarti quando esce un nuovo episodio Se ne cominceranno a uscire uno ogni tanto Quindi iscrivite la mailing list di tempodicambiare.it Novità, altre novità per quanto riguarda quest'ultima settimana appena trascorsa Credo che la unità più grande per la nostra comunità sia stata quella del forum Che abbiamo introdotto a tempodicambiare.it slash forum Diciamo che come forse ci si poteva attendere Come dire, l'essere umano è un animale abitudinario Tutti hanno, la stragrande maggioranza degli ascoltatori di questo podcast Hanno continuato a usare i commenti sulle pagine del blog Quindi il vecchio sistema anziché passare al nuovo sistema del forum E questa non vuole essere necessariamente una critica Nel senso che probabilmente molti sentono che il commento è uno strumento più semplice Più intuitivo, più comunitario Si scrivono uno sotto l'altro Ognuno legge i commenti di tutti gli altri Non ci sono divisioni di tematiche o categorie all'interno E quindi è questo un po' il modo in cui non reagito psicologicamente Gli ascoltatori e gli lettori al forum Poche persone, devo dire, lo hanno usato il forum E hanno fatto di tutto per trascinare gli altri sul forum E ringrazio questi volontari per questo Però ecco, nulla possono, poche persone contro centinaia di persone Non so se abbia senso continuare a forzare la mano Io direi a questo punto, vediamo cosa succede nei prossimi giorni Io nel frattempo studierò Se esistono altri modi, come posso dire, anche graficamente più carini Di potenziare i commenti Renderli più usabili Renderli più carini da visitare Collegarli a Facebook e così via Tutte queste nuove diavolerie social moderne Vediamo un po' se ci sono delle soluzioni migliori E fra una settimana si prenderà una decisione Direi che la grande maggioranza si è già espressa In favore dei commenti Io stesso, francamente, a questo punto sarei quasi più propenso A una soluzione più semplice che quella dei commenti Ma, insomma, vediamo Rimandiamo per adesso a questa decisione Iniziamo l'episodio di oggi L'episodio numero 10 In apertura voglio riprodurre per te Un'intervista che ho fatto proprio ieri A Santos Bonacci Santos Bonacci è uno dei protagonisti A livello proprio internazionale Di questo movimento della sovranità individuale Lo troviamo al centro di molte interviste Molti audio e molti video È in particolare famoso qui in Italia Fra gli ascoltatori di Tempo di Cambiare Per una serie di video che è stata tradotta con i sottotitoli italiani E questi video li trovi su YouTube Con il titolo di Santos Bonacci Due punti Rivendicare la propria sovranità È una serie di 4 o 5 video molto illustrativi Ripeto, con sottotitoli italiani Santos si chiama in realtà Santo Nel senso che è nato in Australia da genitori italiani Per l'esattezza da genitori calabresi Ha poi studiato l'italiano E quindi è uno di quei rarissimi casi In cui io posso intervistare Un personaggio di livello internazionale Per così dire Senza dover appesantire l'intervista Con una traduzione Che o raddoppirebbe il tempo che ci vuole per ascoltarla Oppure dimezzerebbe l'efficacia Se io poi dovessi parlarci sopra in traduzione Quindi, fra 15 secondi La mia intervista a Santos Bonacci Allora, ciao, buongiorno, Santo Anzi, per te, buonasera Grazie per aver accettato il mio invito Ti ringrazio a nome mio Ti ringrazio da parte di tutti gli ascoltatori Di Tempo di Cambiare Grazie per aver accettato il mio invito E raccontaci come hai iniziato a interessarti Di sovranità individuale Ebbene, io mi sono interessato Cinque anni fa Quando mi sono risvegliato Diciamo, utilizzo sempre questa frase Perché in inglese c'è un C'è un Si capisce che Quando uno dice che si è risvegliato The awakening Si è risvegliato Da uno stato di dormire Nel quale uno crede Di essere un prodotto di questo Sistema Nel senso che Non vede La vera natura Del governo Delle chiese Eccetera I controllatori Che ci stanno controllando Non vedono Questo Insomma La corruzione E sempre li scusano Eccetera Quindi Io mi sono risvegliato Perché ero anche Testimone di Jehovah Per venti anni Molto interessante Sì sì Ho sempre cercato Di Di Conoscere la verità Di 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 fare il giusto Ciò che è buono Quindi Sempre ho camminato Su quella via Comunque Mi sono svegliato Dal 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 fatto Che le chiese Che si dicono cristiane Non lo sono E poi ho visto La corruzione Nel governo Che Che sia Pare che I governi Ci danno Due servizi Terrorismo E E Securità E Protezione E noi paghiamo Per questi servizi Sì Sì C'è Abbondante Evidenza Che La CIA CIA Il CIA Dell'America Degli Stati Uniti E' un'organizzazione Che Che Fomenta E inizia Terrorismo E Gang Come si dice Gangs In italiano Sì Criminalità Delinquenza Gangsterismo Gangsterismo E E' anche Il terrorismo In paesi Del Medio Oriente Nell'Ovest Nell'Est E Sempre sono lì Mischiati Nella corruzione Nel terrorismo Mi sono Mi sono Mi sono Risvegliato E ho aperto Gli occhi E ho visto Che Il mondo Che Conoscevo E' tutto Al rovescio Tutto L'educazione Le chiese Il mondo Politico Finanziario E' tutto Corrotto E' tutto Al rovescio Sì Bene Bene Santo Penso che Molti Dei nostri Ascoltatori Si possono Riconoscere In questa tua Storia Di risveglio Dove Ti risvegli Dal sonno Dell'inconsapevolezza E ti rendi conto Che tutto Quello Che credevi Fino a quel Momento Non è Vero In questo Campo Adesso Tu puoi In particolare Iniziato A interessarti Di sovranità Individuale E sei Anche Arrivato Un po' Al centro Delle Attenzioni Di tante Persone Perché Io stesso Ho sentito Tante Delle tue Interviste Ho visto Tanti Dei tuoi Video E come Si sta diventando Un punto Di connessione Tra tante persone Di lingua inglese Che si interessano Di questo Argomento Ci puoi raccontare In questo Campo Qui Della sovranità Personale Cosa stai Facendo Tu Ebbene Io Mi Concentro Su Temi Di Insomma La legge Già Ne abbiamo Parlato Astro Teologia Le scienze Occulte Ciò che sto facendo Si chiamerebbe Sincretismo Non so se è la parola giusta Sì Sincretismo Ok Va bene In inglese si dice Sincretismo Sincretismo Che cos'è? Ebbene Nel periodo Del rinascimento C'erano Dei tipi come Marsilio Ficino Giovanni Pico Della Mirandola Giordano Bruno Questi erano Sincretisti Perché loro Cercarono Di Sincretizzare Tutti i sistemi Di filosofia Religione Scienze Eccetera Infatti Pico Negli anni Trenta anni Prima di Lutero Come si dice? Marte Lutero Marte Lutero Lutero Martino Lutero Trenta anni Prima di lui Lui Andò Andò Giù In Roma Negli anni 1480 90 In quel tempo lì Del rinascimento Per Per dibattere Con Senato Come si dice? Senato apostolico The apostolic senate Senato Ciò è i cardinali Giusto Giusto Eh E insomma Andò lì In quel tempo Nessuno Rispose Al suo Come si dice Challenge La sua sfida Di Di Fare un dibattito Per dare prove Che tutti i sistemi Tutti i sistemi Filosofici E Religiosi Sono Si possono Sincretizzare Cioè Sono uno Il tutto È l'uno Insomma Questo È esattamente Quello che sto Cercando di fare Io Perché Sto dando prove Che Le scritture Ebraiche Sia che Le ebraiche Che le scritture Greche Sono Trattano La scienza Come in alto Sia in basso As above So below Come dice Come dice in Colossesi Capitolo 1 Versetto 23 E 24 Che il segreto Sagrato Sacro Scusa Il segreto Sacro È Il segreto Che gli antichi Non sapevano Che Che ora È ben saputo E questo segreto È il Cristo In te In te O come si direbbe Il Cristo Che giace Dentro di te Quindi Quindi Questo dimostra Chiaramente Che noi Come individui Abbiamo noi La responsabilità Di salvarci Poi Facendo qui Questo Le cellule Dormenti Come si Dormenti 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 Nel cervello Si risvegliano Ecco Perché Il Vangelo Dice Che Ci sarà I Immorti Risorgeranno Si Rissusciteranno Perché I morti Siamo noi Ecco perché Quando Andiamo in Corte Il magistrato O il giudice Lui Mette sempre Il vestito Nero Perché Lui È Un Prete Lui È un Prete E tutto Il sistema Che lui Che lui Adopera È Un sistema Ecclesiastico Ecco perché Sempre vedi La croce E la corona La croce Sta nella corona No? Perché Perché Gli eliti Oppure I controllatori Di questo mondo Famiglie Ricchissime Ricchissime Come per esempio Rothschild In America Il Rockefeller E via dicendo Ci sono tanti di queste famiglie Sono tutte Parentati Sono tutte Famiglie Con il denaro Ma il denaro Che hanno loro La moneta Che hanno loro È moneta rubata Per mezzo Delle loro Corporazioni E il Vaticano E il Vaticano È una Di tali Corporazioni È un Banco È una Banca È come si dice È un Banco Banca 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 Sì E questo È un È un Fatto Ben saputo Quindi Comunque Loro Non solo Non solo Organizzano il mondo Sotto Sotto il potere Ecclesiastico Ma utilizzano le forze Anche politiche Il re del mondo E sono come Un matrimonio Fatto In inferno È un matrimonio Fatto Comunque I controllatori Sanno benissimo Che questo funziona Ecco perché Quando vai in corte Specialmente In questi paesi Io abito In Australia Non sono mai stato In Italia Quindi non so Non posso Parlare Con autorità Sul sistema italiano Comunque Visto che mi hai Contattato Ci conosciamo Hai preso Quest'opportunità Di intervistarmi Farò Delle ricerche Su questo Se Magari nel futuro Facciamo Un'altra intervista Avrò più Informazioni Accurate Da Passarvi Perché non posso Veramente Parlare Con accuratezza Ottimo Grazie Comunque In questo paese Qui Quando si va in corte Si va in corte Come uno Perduto Nel mare O uno Senza Ragione Oppure Uno schiavo Oppure Ti considerano Come Un imbecille Perché Perché se tu vai In corte Fai Come si dice Statements In italiano Affermazioni Affermazioni Se tu vai Facendo affermazioni Già Sei belligerante Oppure Sei Stai Come si dice In competizione Contestando La loro Autorità Una volta Che tu Ti presenti In questa maniera Loro Sanno Che ti possono Mettere in galera Ti possono dare Delle multe Possono Possono avere Come vogliono Loro Possono fare Come vogliono Loro Perché non capisci Chi sei Capito Quindi Questa è la verità Che sta uscendo Nella Diciamo Nei paesi come Canada Gran Bretagna Stati Uniti Australia Nuova Zellanda Queste sono Le verità Che stiamo Comprendendo In questi ultimi Giorni Di questo Sistema Corrotto Ecco perché Il giudice È un ordinario Un ordinario Sarebbe uno Che ha potere Dalla Inquisizione Dalla chiesa Di fare Aggiudicamenti Come si dice Judgments Di giudicare Giudizi E mettere giudizi Sì Passare giudizi Eccetera Poi Nei nostri corti Abbiamo Abbiamo Tipi che si chiamano Clerici 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 Come un Che si chiamano Segretario Forse Sì Insomma Lui È sempre seduto Vicino al giudice E lui È quello Che scrive Tutto Comunque Noi Noi li chiamiamo Clerk Però la parola Viene dalla parola Clerico Ah interessante Ecco Poi c'è il Prosecutore Come lo chiamiamo L'accusatore 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 Ecco Accusatore Accusatore Queste sono parole Che escono Dal Dal reame Ecclesiastico Dall'inquisizione Un accusatore E' uno Chi ti accusa Ricorda Cinque anni Cinquecento Anni fa Che Con L'inquisizione L'inquisizione Il papa Diceva Nelle bolle Diceva Se Sospetti Che uno Sia Un Eretico Un Renegade Renegado Sì Tu E' la tua Responsabilità Di denunciarlo Quindi Lui Diventa L'accusatore Poi Lo Stato La Chiesa Prende questa Responsabilità E diventa La Chiesa L'accusatore Davanti a Dio Loro Stanno Amministrando Il regno Di Dio Il loro Dio Non è il Dio Il creatore Dell'universo Lo spirito La causa La prima Causa No E' il loro Dio Il loro Sistema E loro Possono Come si dice Get away With this Crime Se la possono Se la cavano Se la cavano Se la cavano E Pare che Non ci sia Giustizia Per loro E vanno avanti Con questo sistema Fittizioso E' completamente Fittizio Fittizio Sì Completamente Completamente Perché Il nome che ti mettono Sui loro documenti Quando ti invitano In corte Perché hai fatto Qualche cosa Non so Hai Passato il limite Della velocità Sulle strade E quindi La polizia Ti porta Ti accusa Davanti All'ordinario Il prete Il giudice E' il prete Dell'inquisizione E tu Sei L'accusato Il momento Che tu vai Nel loro Corte Difendendoti Stesso Sei Belligerante Oppure Stai creando Stai creando Una controversia Contro Il loro sistema Contro Dio Perché Non sei svegliato Perché Se fossi Stato Svegliato Se fossi Svegliato Non ci andresti In corte Perché Il corte Non è per Un soverano Andare in corte Non è per un soverano Per una divinità Se conosciamo Che siamo divini E se conosciamo Che abbiamo Il Cristo Dentro di noi Non ci sarà E non ci sarà E non ci Non c'è mai stato Un salvatore Vicario Che ci salva Dal di fuori Se non ci salviamo Da questo sistema E cresciamo La nostra sapienza E conoscenza E amore E non ricordiamo Chi siamo Ci porteranno In corte sempre E ci metteranno In galera Perché siamo Imbecilli Giusto Yeah Questo posso dire Riguardo al tuo sistema In Italia A Italo Questo lo posso dire Con accuratezza Perché Il sistema È un sistema Corrotto Che non Non sente La giustizia Alle orecchie Chiuse Loro sentono Solo I soldi E L'affare Dei 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 Bancheristi Come si chiamano Banchisti Banchieri Banchieri Scusa Perché io faccio Guarda Faccio intervista In inglese In spagnolo Per non essere Mai stato in Italia È un italiano Assolutamente Perfetto Non credo Non so Quanti Crederanno Che tu Non sei mai Stato in Italia Well Bene Quando Avevo 18 anni Ho cominciato Ad imparare Tante lingue L'italiano Io sono Cresciuto Nella Campania Qui In Vittoria Nelle montagne I miei genitori Vengono da Calabria Catanzaro Nell'anno 1956 Io sono Nato Nel 63 E Sono Cresciuto Con le due Lingue Col Calabrese Di Catanzaro Della Della Sila I bonacci Vengono dalla Sila E Sono Cresciuto Con queste due Lingue Quindi Quando mi sono Impegnato Ad imparare Italiano Mi venne Molto facile Ho fatto Mandare Lo Zingarelli Il Ragazzini E Tantissimi Libri Dall'Italia Molto bene Molto bene Santo Tu sei Come dicevo Sei un po' Al centro Di questa scena Nel senso Che Ti sto seguendo Ti intervistano In tanti Ti chiamano E così via Quindi Per via del fatto Che tu Riesci a sentire Anche tante voci Diverse Quindi in Canada Quindi in Australia In Inghilterra In America E così via Quali sono Non so come dire C'è qualcosa di nuovo Di interessante Qualche novità Cosa c'è Un cut in edge Quanto sto a dire Le ultime novità Su questo fronte Della legge Sì Della legge O della sovranità Individuale Del come comportarsi In corte Ci sono delle nuove Nuove scoperte Qualcosa che sta funzionando Bene In diverse parti Del mondo Ok Buona domanda Per quelli Gli ascoltatori Interessati Io andrei A studiare Due concetti Usufruct Usufruct Si scrive Usufructo Se non l'ho pronunciato bene Sì Usufructo In italiano Ecco Bravo Ok Quindi Tu puoi passare Delle informazioni Su questo concetto In Wikipedia L'enciclopedia Sull'internet C'è un articolo Buonissimo E si può Apprendere tante cose Su questo concetto Poi c'è Amicus curiai Amicus curie Amicus curiai Amico della corte Sì Buonissimo Oppure Il concetto Che si sta Spargendo Come un fuoco Nel campo Sovrano Nella In questi paesi Sarebbe Il concetto Di Abitante pacifico Peaceful Inhabitant Quindi Quando uno Va In corte Prima cosa La prima cosa Che esce Dalla sua bocca Per stabilire Che è un amico Della corte Potrebbe anche dire Sono un amico Amico della corte Qui Si dice la corte O il corte La corte Ecco Sì Mi stavo Confondendo Amico della corte La prima cosa Che dice Dopo che Dice Che è un amico Della corte Ed è venuto Per la questione Relativa al nome Per esempio Il mio nome È Santo Bonacci Quindi io direi La prima cosa Sono qui come amico Della corte E pacifico Abitante Sono venuto Per la questione Relativa al nome Di Santo Bonacci Sembra che ci sia Un errore In relazione Al nome Di Santo Bonacci Perché è un nome Vedi La corte La corte Non può sentire La voce Di una persona In sangue Ossa E sangue Flesh and blood Carne e sangue Solo possono trattare Con pezzi di carta Morti Solo possono parlare Con corporazioni Morti Perché cos'è Una corporazione Insomma È una corpse Il corpus Corpse è cadavere In inglese Cadavere Ecco Cadavere Ecco perché usano Utilizzano I loro Documenti Di carta Perché scritta Sulla carta È una fizione La vera La realtà Esce dalla bocca È con la bocca Che tu Parli La tua verità Capito Quindi Poi dopo di questo Quindi tu dici Sono venuto Per la questione Relativa al nome Di Santo Bonacci E subito dopo Dici Sembra che ci sia Un errore In relazione In relazione al nome Di Santo Bonacci Sì perfetto Esattamente così Interessante E poi Bisognerebbe fare Delle domande Perché Il giudice È quello che Sempre fa Le domande Non è vero Qual è il tuo nome Per esempio Qui Nelle nostre corti La prima cosa Che chiede Il giudice È Qual è il tuo nome What is your name Interessante Non è? What is your name Perché Vuole vedere Se dai vita Ai loro documenti Che sono morti I loro documenti Sono morti E se tu dici Sì Sono io Santo Bonacci Dai Crei Un Aggiungersi Col nome Il nome Il nome È una Corporazione È una Fizione Perché il governo È una fizione È un governo Di It's a Piper government Capito? Non è un Un governo Non è una cosa Di sangue Di carne È una cosa Di carta Di documenti Quindi Possono solo Trattare con documenti Quindi se tu vai in corte Difendendo questi documenti Che hanno il tuo nome Sopra Loro sanno Sul Sul posto Subito Senza Essere molto Intelligenti O molto Istruiti Sanno subito Secondo il loro sistema Che sei morto Sei un accusato Morto E che dai vita Hai le loro carte Morti Quindi loro possono Ti possono multare Ti possono mandare in prigione Eccetera Quindi per evitare questo Noi facciamo le domande Siamo noi Che andiamo in corte A fare le domande In inglese Una domanda Fare una domanda Si dice Asking Asking È una parola Che è prodotta Da due parole Come re Asking Asking Quindi fare una domanda Vuol dire Che tu stai agendo Da re Ecco perché Un re Quando vai in corte Se devi un giorno L'indomani Andare in corte Farai le domande Una domanda Che si potrebbe fare È questa Con quale autorità Stai usando O utilizzando Questo nome Come Identificazione Personale Perché Nei nostri paesi Non so Del sistema In Italia Loro Nessuno Ha L'autorità Di Usare il nome Come Identificazione Personale I documenti Stessi Lo dicono Per esempio Il certificato Di nascimento Qui in questo paese Sempre Stipola Sempre dice Chiaro e tondo Non Dovrebbe Essere usato Come Identificazione Personale Questo documento Non deve essere usato Come Identificazione Personale Ok Quindi tu dici Sotto quale autorità State usando Questo nome Come Identificazione Personale E questo fa un po' Crollare tutto il castello Su cui loro hanno costruito L'accusa Lui non avrà Risposta Perché se lui Risponde Lo Stato Lo Stato Ha fatto Questa accusa Quindi Lo Stato Dovrebbe portare In corte Il rimedio Perché Perché loro Sono Gli accusatori E quello lì È quello che sta facendo Il climb Diciamo qui in inglese Il climb È una sua affermazione E quindi La deve anche dimostrare Sì E deve portare Il rimedio Quindi Se uno fa Le domande Giuste Dovrei Dovrei studiare bene La traduzione Per gli italiani Se questo è il sistema Giusto Per gli italiani Farò delle ricerche Per studiare bene Le frasi Che si dovrebbero Fare In corte E le domande Perché Facendo le domande Uno si presenta Onorevolmente In corte Questo è molto importante Perché se uno fa Delle Delle Statements Ho dimenticato Già Scusami Affermazioni Affermazioni In corte Questo È Creare Controversia Chiunque Crea Controversia Il giudice Può Prenderlo Come Ignorante Oppure Belligerante Oppure Contro Il bene Della Comunità Lui può agire Come vuole In corte E passare I giudizi Come vuole Secondo loro Il loro sistema Perché loro Sono Delle banche E stanno Guadagnando Soldi Per il loro Commercio È un sistema Di commercio Quindi Se uno Va In corte Come amico Della corte E fa Delle domande Le domande Giuste Uno Può Vincere 100% Dei Casi Molto Interessante Va bene Santo Grazie per la tua Testimonianza E soprattutto Grazie per Averci Promesso Che farai Qualche Indagine Sul sistema Italiano Vediamo un po' Se ci riesci a dare Qualche input In questo senso Nel frattempo Se uno vuole rimanere In contatto Con te Con il tuo lavoro Cosa si può fare Ci sono siti web Che si possono Visitare Soprattutto se uno Magari mastica Un po' L'inglese O hai progetti Di fare qualcosa In italiano Nel prossimo futuro Qual è il tuo Indirizzo Internet Sì Eccellente Ok Il mio La mia Website Universal È difficile Universale Truth Universaltruthschool Dotcom Magari se potresti Scriverlo Perché conosci L'inglese Bene Sì Certamente Lasceremo il link Subito sotto l'audio Universal Truth School Scuola della verità Universale Comunque Sì Mi si può Trovare su Google Sull'internet Scrivendo Santo Bonacci Astro Teologia E questo Ti condurrà Il mio Website Universal Truth School Dotcom Ho notato Che alcune persone Dall'Italia Mi hanno scritto In inglese Se Se gli ascoltatori Mi vogliono scrivere In italiano Capisco l'italiano Bene Non Il mio italiano Non è perfetto Guarda Io Mi volevo Mi volevo Esprimere Molto Molto Più Meglio Ma non ho Neanche il tempo Di praticare L'italiano Durante la settimana Per Migliorarlo Io Mi sono Presentato Qui Quando mi ha Telefonato Mezz'ora fa Senza preparazione Perché non ho Tempo Quindi Mi chiedo Perdono Per L'italiano Mancante Nessun problema Sei stato Chiaro Comunque Deluquente Bravissimo Develo spiegarti Santos Grazie Santos Di nuovo Grazie a te Da parte mia Da parte di tutti I nostri ascoltatori Allora A risentirci A presto Grazie Ciao Ciao Ok Questa era l'intervista A Santos Bonacci Che ringrazio nuovamente Per aver partecipato Quindi Da parte nostra Italiani Riepilogando La situazione attuale A che punto siamo Stiamo ancora cercando di capire Se e come Questi concetti Si applicano In Italia Devo dire in tutta sincerità Che i primi risultati I primi giri di consultazione Non solo da parte mia Ma da parte di tantissimi amici Ascoltatori Che stanno informando Con avvocati Giudici Addirittura E così via Stanno spulciando i vari codici I primi risultati Non sono Incoraggianti Nel senso che Ci sono delle differenze radicali Nel Fra l'ordinamento giuridico Anglosassone E quello italiano D'altra parte Io continuo a pensare Che ci deve Obbligatoriamente Essere Qualcosa Che ancora Ci sfugge È chiaro Che la Matrix Consista Nel farci credere Che tutto È normale E tutto È perfettamente in ordine Proprio così Come ci appare Altrimenti Che Matrix Sarebbe Ed è anche chiaro Che la Matrix Non si vede Fintanto che Tu ci stai dentro A proposito Di Matrix Volevo fare Una Una lode Particolare A Sebastian Uno dei nostri ascoltatori Perché nello scorso episodio Dicevo Facevo l'esempio Proprio del film Matrix In risposta a una domanda Dicevo che il film Matrix È uno dei modi Che ha usato L'elite Che governa il mondo Per avvisarci Di quello che sta accadendo Realmente In modo che Noi siamo avvertiti Parlavo dell'importanza Del libero arbitrio E della conoscenza Nello scorso episodio E quindi La metafora usata Dal film Matrix È che noi In realtà Siamo una specie Di carburante Che serve unicamente Ad alimentare Un sistema Completamente Automatizzato Bene Sebastian Ha scoperto Che il protagonista Di Matrix Nio Si chiama in realtà Non come si chiama Keanu Reeves Quello è il nome dell'attore Intendo dire Il vero nome di Nio Nel film Era Lui si chiamava Thomas Anderson Che è incredibilmente Uno dei protagonisti principali Di questa Di questa Battaglia E scoperta Della sovranità individuale Rispetto alla Matrix Che L'elite finanziaria E politica Vuole farci credere Sia vera Quindi Thomas Anderson Ne parlava Nel scorso episodio Le probabilità Che questa sia Una pure e semplice Coincidenza A questo punto Sono veramente Irrisorie E quindi Grazie a Sebastian Complimenti per questa scoperta È sicuramente interessante E conferma Quello che dicevo Cioè I film di Hollywood Sono una specie di avvertimento Di quello che ci sta accadendo E o Di quello che ci sta per accadere Per il resto Da parte nostra Continuiamo A indagare Questo podcast È principalmente Un luogo di indagine È principalmente Un luogo di ricerca Ripeto Continuamente Di non avere Assolutamente Io La verità in tasca Mi piacerebbe Essere come Quei leader politici Che in tutta la loro vita Non li sentirai mai dire Mi sono sbagliato Non li sentirai mai Avere incertezze E così via A me Lo sentirai dire Tantissime volte O forse l'hai già sentito Dire tante volte Penso che questo sia Il marchio Di una persona normale L'unica cosa Che posso assicurarti È che da parte mia Sto facendo del mio meglio Per Del mio meglio In questa ricerca Quello che sto facendo Ma non da solo Insieme a te Perché qui Il ruolo degli ascoltatori È assolutamente cruciale Con le segnalazioni Con le risorse Con le linee di ricerca Che suggerite a me E suggerite agli altri E così via È veramente Un lavoro collettivo Quello che sto facendo È ricercare Quel Come si chiama Quel grimaldello Che ci aiuti A scardinare la porta In altre parole Come dicono Gli strateghi militari In modo che noi Possiamo concentrare Tutte le nostre forze Sul punto Più debole Dello schieramento Avversario Perché Questo è l'unico modo In cui noi possiamo Fermare L'elite Corrotta Che sta affossando Il mondo Qualcuno scriveva Pochissimi giorni fa Sul blog Ma cosa stiamo facendo Dopo due mesi Siamo ancora qui a parlare Non abbiamo ancora Fermati L'importante è Fermarli Su questo siamo tutti D'accordo Che l'importante È fermarli L'importante è capire Qual è il tallone d'Achille Del nemico Perché se non scopriamo Il tallone d'Achille Ha voglia A scendere in strada E lanciare le pietre Già sappiamo Come va a finire In altre parole Quello che dobbiamo scoprire È la singola azione Che ha la massima Forza di leva E ha anche La massima capacità Di aggregare Tante persone Perché sia Facile da capire Sia utile E così via Perché se Continuano pochissime persone A voler intraprendere Qualsiasi forma Di iniziativa Contro l'elite Finanziaria Internazionale Non andremo Da nessuna parte Mi rendo conto Che il tempo Non gioca A nostro favore Anzi Però Mi rendo conto Che è altrettanto Inutile agire Alla cieca E fra i vari Filoni Di ricerca Questo qui Della sovranità individuale Rimane un filone Di ricerca Interessante E aperto Fin quando avremo Completato Tutte le nostre verifiche Fra 15 secondi Voglio farti Un breve aggiornamento Su One Heaven De cui parlavamo Nello scorso episodio Si dicevo Un breve aggiornamento Su One Heaven Tutti gli argomenti Che abbiamo trattato Finora Insieme In questo podcast Sono veramente Così ampi Così complessi Che spesso Dentro di me La sensazione Che sto facendo Un cattivo lavoro Nel riassumerli Proprio perché Sono incredibilmente Così vasti Profondi Intrecciati Intricati Però ecco Devo dire Mai Come con One Heaven Ho avuto la sensazione Di aver fatto Un cattivo lavoro Di riassunto Proprio perché Quest'opera è così vasta Che solo pensare Di riassumerla È improbabile Ed è difficile E quindi mi rendo conto Che questa è una grande Vulnerabilità Per One Heaven Il fatto che questa idea Sia così complessa O meglio E sia un punto di forza E sia un punto di debolezza Allo stesso tempo Per quelli che fossero rimasti indietro Di Ukadi e One Heaven Accennavo Nello scorso episodio L'episodio 9 Ecco Qual è il punto forte Di questa iniziativa? Il punto forte È che questo Non è un rimedio temporaneo Non è Come posso dire Una pezza a colore È piuttosto invece Uno studio sistematico Delle cause Che hanno portato Allo stato di cose presenti E lo stato di cose presente È Che esiste Un'oligarchia corrotta Che possiamo addirittura Considerare una setta O paragonabile a una setta Che da secoli Persegue Un'unica E sola agenda Quella di concentrare Tutta la ricchezza Nelle proprie mani E di distribuire Povertà Al resto del mondo Ora su questo Voglio mettere Come dire Dei paletti Voglio mettere Una linea di confine Perché finora Questo podcast Con i suoi dieci episodi E questo è il decimo episodio Si è mantenuto Sempre molto aperto Alla ricerca Della verità Sempre pronto a cambiare idea Sempre pronto a considerare verità E ipotesi Diversissime Anche opposte fra di loro Senza mai pensare Di avere la verità in tasca E senza mai Nessun dogmatismo Anche per questo Direi che questo podcast Ha attirato L'attenzione E l'ascolto Di migliaia di persone Anche molto 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 Diverse Fra loro Per estrazione Provenienza Convinzioni Valori E così via E questo credo Che sia un bene Però Arrivati al decimo episodio E anche il momento Di tirare certe somme Mi sembra doveroso Dichiarare Che esiste a questo punto Almeno un terreno comune Certo In cui tutti gli ascoltatori Si riconoscono E che se non si riconoscessero In questo terreno comune Probabilmente Non ascolterebbero Questo podcast E farebbero anche bene A non ascoltarlo E questo terreno comune Gira e rigira È sempre il punto di partenza Da cui ho cominciato Con l'episodio 1 Cioè Che esiste Un'oligarchia corrotta Un'elite internazionale Che è paragonabile A una setta Che da molti secoli Segue un unico scopo primario Che è quello Di concentrare Tutta la ricchezza Nelle mani di pochi E di distribuire Povertà Al resto del mondo Ora Se tu non sei ancora Consapevole di questo Di questa realtà Chiamiamola così Allora vuol dire Che o finora Non ti sei documentato Abbastanza Su quello che sta accadendo Nel mondo O ti sei affidato troppo Alle versioni ufficiali Dei giornali Dei telegiornali Perché indovina Chi è il proprietario Di questi giornali Indovina Chi scrive I libri di storia Che si leggono Nell'università Indovina Chi scrive I libri di storia Delle religioni Indovina Chi ha tradotto I cosiddetti Testi sacri Eccetera 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 Con questo podcast Ma non solo Con tutta questa mole Di informazioni Che ormai esiste Sulla rete Abbiamo messo insieme Una tale quantità Di evidenza Che a questo punto Solo chi non vuole vedere È rimasto a non vedere Quindi da ora in poi Questo è il terreno comune Che io do per scontato Che accomuni Tutte le migliaia Di ascoltatori Che seguono Questo programma E questo ormai È ben più Di un'ipotesi Di lavoro È veramente Una realtà Auto-evidente Che solo Chi non la vuole vedere Non la vede E quindi Lo ripeto Qual è questo terreno comune Esiste un'oligarchia Corrotta Un'elite internazionale Che è paragonabile A una setta Che da secoli Persegue Un'unica agenda Quella di concentrare Tutta la ricchezza Nelle proprie mani E distribuire Povertà Al resto del mondo Su tutto il resto Possiamo essere In disaccordo Su quali sono le cause Su come ci siamo arrivati A questo punto Su chi sono i protagonisti Chi sono i colpevoli Se c'entra o non c'entra La massoneria Se c'entra o non c'entra Il Vaticano Cosa possiamo fare Concretamente Per liberarci Di questi parassiti Eccetera 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 Su tutto possiamo essere In disaccordo Ma sull'esistenza Di questa oligarchia No Ok Su questa base La forza di Ucadia E di One Heaven È che Ha studiato Questo nemico Fa virgolette L'elite internazionale L'ha studiata meglio E più a fondo Di chiunque altro Che io conosca almeno E quindi Attraverso Ucadia Non è altro Che uno studio sistematico Delle cause Delle forze Della storia O meglio O meglio Della falsificazione Della storia Della falsificazione Del diritto Cioè fare le leggi A proprio comodo E a proprio tornaconto Della falsificazione Dell'economia Al pure semplice scopo Di concentrare Tutta la ricchezza Nelle mani di pochissimi Della falsificazione Della politica Della falsificazione Della religione Tutte cose che hanno portato È stata una sfida Una sfida Ufficiale A tutte le affermazioni E le presupposizioni Finora non contestate Su cui si basa Il predominio Di questa Oligarchia Corrotta Nel mondo Quindi l'abbiamo visto Negli scorsi episodi Loro hanno proclamato Il mondo ci appartiene Dio l'ho dato a noi Gli esseri che lo abita Sono sotto il nostro dominio Per volere divino Noi ci trasmettiamo Questo potere Al nostro interno Generazione dopo generazione Dopo generazione Noi l'elite Non solo Usiamo questo potere Per concentrare Tutta la ricchezza Nelle nostre mani E distribuire povertà Al resto del mondo Da parte di Ucadia E di One Heaven Invece è stata fatta Una proclamazione Diversa Come quando nel film Il gladiatore Il gladiatore scende Nell'arena Vuota E proclama la verità E dice Chi ha il coraggio Di scendere nell'arena A sfidarmi Che l'arena è vuota Ci sono soltanto io Chi ha il coraggio Di scendere a sfidarmi Perché quando si proclama La verità Sono i bugiardi Che hanno l'onere Della prova Cioè di dimostrare Il contrario Allora Ucadia Scende in campo E dice Anche noi abbiamo fatto Un'affermazione Anzi Noi abbiamo fatto Un'affermazione Moralmente superiore Alla vostra Che è corrotta Storicamente Superiore Alla vostra Giuridicamente Superiore Alla vostra Economicamente Superiore Alla vostra Politicamente Superiore Alla vostra E spiritualmente Superiore Alla vostra E adesso Spetta C'è anche All'interno Quindi ti parlavo Di queste tre notifiche Defide Come si potrebbe dire Richieste di cessare Richieste di desistere La prima nel 2009 Dicembre 2009 La seconda nel ducembre 2010 La terza nel dicembre 2011 E queste sono state notificate Realmente A cominciare A cominciare Città del Vaticano A cominciare Dalla City di Londra E la Corona A cominciare Da Washington DC E per proseguire In tutti i governi Corrotti del mondo La quarta E ultima Di queste notifiche Avverrà nel dicembre 2012 Che è la data Della loro Definitiva Caduta In disonore E questa proclamazione Dice Non è vero Che il mondo Appartiene a voi Nessuno può Possedere Il corpo La mente Lo spirito Di un'altra persona Perché è questo Che voi state dicendo Voi state dicendo Il nostro corpo Appartiene a voi La nostra mente Appartiene a voi E il nostro spirito Appartiene a voi E questo che state dicendo Con le vostre leggi Ma questo Nessuno Può Affermarlo Ogni essere umano È portatore Dentro di sé Della creazione divina E questa nostra affermazione È superiore alla vostra Ogni essere umano In quanto portatore Della creazione divina Dentro di sé È custode Ed è responsabile Di questo mondo Per il bene Del mondo stesso Per il bene Delle generazioni future E per il bene Di tutte le forme Di vita Ed è giusto Ed è arrivato Il momento Che tutti gli individui E le comunità umane Finalmente Vivano in pace Fra di loro Così Attraverso Ucadia Per la prima volta Nella storia Attenzione Perché questa è Veramente la prima volta È stato creato Un ordinamento giuridico Sono state create Delle leggi Basate Come possiamo chiamare Leggi giuste Basate sulle stesse Leggi divine E morali Che ogni essere umano Onesto Dovrebbe condividere E soprattutto Ogni essere umano Ce le può guardare prima Ce le può studiare Le può commentare E così via Prima della loro Entrata in vigore Questo non era mai Successo prima Prima ci sono state Le rivoluzioni Chissà quante rivoluzioni Ci sono state nella storia Però finita la rivoluzione Erano sempre i soliti Noti Che scrivevano le leggi A loro uso E consumo Vedi la costituzione italiana Senza andare troppo lontano Che è di fatto Una colonia americana Qui Con questo procedimento Per la prima volta Ognuno Può Apprezzare Cosa significa Una legge giusta Una legge completa Che vale in qualsiasi luogo E a qualsiasi latitudine Ed è stata scritta Al solo scopo Di prevenire Per sempre In futuro La formazione di oligarchie Di promuovere la pace Fra gli individui E la comunità Di preservare il pianeta Per il bene Della creazione Per il bene Delle generazioni future Quindi in un certo senso L'ordine è stato capovolto Prima si iniziava Il cambiamento Senza sapere Dove avrebbe portato Per ritrovarsi poi Con una nuova legge Scritta da una nuova elite E da una nuova lobby Di potere Eccetera Eccetera Adesso invece Si inizia dalla fine Prima ogni persona Aderisce Sapendo Quello A cui sta Aderendo E vi aderisce Come individuo Sovrano In completa libertà E libero arbitrio Poi L'unione Di tanti individui Sovrani E giusti Finirà Per portare A un mondo Sovrano E giusto Quindi Questa Mole di lavoro Della stesura Di queste leggi È stata fatta Ed è una mole Di lavoro Immensa Ed è questo Il punto forte Di Ucadia Dicevo Però è anche Il punto debole Di Ucadia Perché è un'opera Vastissima Non è un'opera Che capisci Navigando sul sito In un pomeriggio Qua non ti basta Un mese Di navigare sul sito Per capire Di cosa stiamo parlando E quindi Più un'opera È vasta Profonda E intelligente E più è difficile Che uno La studi E la comprenda È più difficile Che uno trovi Il tempo Per studiarla E avendola studiata Trovi il tempo Per comprenderla E se uno Non la comprende Si fa un'idea Fantasiosa Raggiunge una conclusione Arbitraria E comincia Tipicamente A insultare Quell'idea Ecco perché Ci sono alte Probabilità Che uno Critichi One Heaven O Ucadia Dopo aver appena sentito Parlare Senza aver approfondito Perché non è facile Approfondire Come quello Uno degli ultimi commenti Sul blog Che diceva Ho guardato il sito Di One Heaven Secondo me Tutta una truffa Vogliono Vogliono Impadronirsi Dalle ricchezze E dei soldi Delle altre persone È facilissimo Facilissimo Pronunciare sentenze Senza aver approfondito In qualsiasi caso Mettiamo un punto E a capo Come mi colloco Io personalmente In tutto questo Ripeto Mi piacerebbe Collocarmi come un leader Infallibile Che sa già tutto Quello che deve succedere Sa già Sa già tutto E dice agli altri Seguitemi Non vi preoccupate Seguitemi Vi porto io Nella terra promessa Però Purtroppo O per fortuna Sapete benissimo Che questa Non è la verità Io Sono uno Esattamente come te Dal primo episodio Di questo podcast Sto approfondendo Cercando di capire Queste tematiche E poiché la situazione È complessa Non è in due giorni Che noi ci siamo cacciati In questa situazione Ma è in due millenni E passa Che ci sono voluti Per cacciarci in questa situazione Quindi dubito Che saremo capaci Di uscirne in due giorni Essendo una situazione Penso io Iniziare a vivere Iniziare a vivere Da subito Secondo principi sani In un nuovo sistema Fa virgolette Senza aspettare Che crolli il vecchio sistema La chiave Lo vado ripetendo Nei primissimi episodi Di questo podcast La chiave È quella Di togliere il terreno Sotto i piedi Di questa oligarchia Corrotta Cioè iniziare direttamente A vivere Secondo un nuovo sistema Più giusto Senza aspettare Che crolli il vecchio Questa è una delle chiavi principali Che sto indagando Insieme a te Fin dal primo episodio Ora poiché questo viaggio Che stiamo facendo insieme È anche un po' Il mio viaggio Di ricerca personale Sicuramente te ne sei accorto In questa fase Sto prendendo in considerazione Anche Ukadia E One Heaven Nel senso che Li sto approfondendo Tre giorni fa Ho parlato su Skype Con Frank O'Collins E ti garantisco Che non è stato facile E gli ho chiesto Se un gruppo di persone Volesse Si mettessero insieme Volessero promuovere Accelerare il cambiamento Cosa dovrebbe fare Questo gruppo di persone E lui mi ha mostrato Un nuovo documento Che ho appena finito Di elaborare In Ukadia E mi ha detto Guarda Non è necessario Che si formi Un grande gruppo di persone Che facci Non so quale grande cose Se solo Cinque persone In Italia Traducessero E firmassero Questo documento Il destino Del vostro paese Sarebbe alterato Per sempre Così Adesso sono Le presse Con questo documento E me lo sto studiando Per bene E ti garantisco Che non è facile Da capire E quindi Non volermene Non è che Non è che Non è facile Da capire Non sono facile Da capire Tutte le Le conseguenze E le implicazioni Quindi è di questo Che sto continuando A parlare con lui Quindi non volermene Se non lo condivido Subito Ormai Mi stai cominciando A conoscere bene O io ho bisogno Di capire Prima di agire E quindi poi Ti terrò Aggiornato su questo Su questi sviluppi Anche perché So benissimo Di avere delle responsabilità Nel senso che Questa non è solo La mia ricerca Ma è la nostra ricerca E quindi Proprio per questo Però Cerchiamo di Non fare i passi Più lunghi della gamba E di indagare bene Ogni passo Che facciamo Fra 15 secondi Passiamo all'angolo Dei valori Così eccoci all'angolo Dei valori Dove probabilmente Se già ti aspetti La seconda parte Dell'audio Dell'intervista Audio che ho iniziato A mettere Nel nascorso episodio Su sviluppo personale Sviluppo spirituale Ma prima Fammi iniziare Questo breve angolo Leggendo Il commento Sul blog Di Raffaella Uno dei nostri Ascoltatori O ascoltatrici Italo Grazie di cuore Per tutto ciò Che stai facendo Grazie a tutti Veramente Perché senza di voi Non ce l'avrei mai fatta Vi amo tutti Ed è un'esperienza Meravigliosa Ringrazio anche La cricca E chi ne sta sopra Perché senza di loro Non ne staremmo Qui a parlare E per quello Che stanno facendo E per quello Che stanno facendo Volenti o nolenti Che ci hanno costretto A risvegliarci E per quello Che stanno facendo Volenti o nolenti Che stanno macchiando La loro anima Quindi le ringrazio di cuore E amo anche loro E continuerò Ad amare tutti Loro compresi Anche se scateneranno La terza guerra mondiale E continuerò ad amarli Se ci massacreranno tutti Perché la colpa Sarà anche nostra Che glielo abbiamo Lasciato fare Volenti o nolenti Continueranno a farlo E sempre di più Finché noi Non dimostreremo loro Che ora siamo Coscienti di ciò Dobbiamo dimostrarglielo Ringraziarli per il lavoro Svolto finora E chiederli di poter Proseguire da soli Con onore Solo allora Il cambiamento Potrà avvenire Universalmente Fuori come dentro Sotto come sopra Solo allora Si potranno imputare I danni Ai veri colpevoli Delle atrocità subite E i veri colpevoli Sono quelli che hanno agito Senza essere consapevoli E la punizione Per tali danni Sarà imparare A essere consapevoli Perché è proprio questa La punizione peggiore Nel mondo ideale Che vogliamo forgiare Fammelo ripetere Quest'ultimo La punizione Più cattiva Nel mondo ideale Che vogliamo creare E quella di imparare A essere consapevoli Bene Grazie Raffaella Già sento le voci Di quelli che diranno Che questo modo di pensare È naif È ingenuo È infantile Fa il gioco dei potenti Che loro si ridono Alle nostre spalle Già le sento le voci Di quelli che pensano così Eppure Non dovremmo mai Sottovalutare La forza Della gratitudine La forza del perdono E la forza Dell'improntare Tutte le nostre azioni All'amore Se noi improntassimo Le nostre azioni All'odio Verso Le elite Mondiali E la vendetta Nel loro confronti Non staremo facendo Altro che creare Ancora di più Del solito Ancora di più Del vecchio Ancora di più Di quello che abbiamo Sempre conosciuto Fino ad ora In tutta la storia Dell'umanità Su questo bizzarro pianeta Quindi grazie a Raffaella Per questi pensieri Controintuitivi Che sono i pensieri Che possono fare La differenza Fra La schiavitù E la libertà O liberazione Adesso Continuo invece A riprodurre La registrazione Di questa intervista La prima parte Era nello scorso episodio L'episodio 9 Ed era riferita Soprattutto a Cos'è lo sviluppo personale Questa seconda parte Invece La continuazione Parla di Cos'è lo sviluppo spirituale In che modo Lo sviluppo spirituale È diverso Rispetto allo sviluppo Personale Per cui ci sono Spesso C'è spesso Della confusione E in che modo Sono collegati Sviluppo personale Sviluppo spirituale E sfociano L'uno Nell'altro Quindi Questa è la seconda parte Di questa intervista Mi è stata fatta Da Marco De Biagi Che saluto e ringrazio All'inizio di quest'anno 2012 E quindi Buon proseguimento Di questi Dieci minuti Di intervista Passerei quindi Al terzo punto Della nostra esplorazione E passerò quindi La parola D'Italo Che come abbiamo visto Ha dedicato Moltissimo tempo Al percorso Di sviluppo personale E qui ecco Iniziamo a delineare La discussione Di oggi pomeriggio Il cuore Della crescita personale Dello sviluppo Del miglioramento personale E volevo chiederti Italo Che cosa spinge Secondo te Qualcuno a fare Quel passo ulteriore Quel click ulteriore E a solcare appunto Quel confine Fra la crescita personale E la crescita spirituale Dove è quella linea di confine E che cosa ci spinge A fare questo passo ulteriore Verso un territorio Forse illimitato Marco questa è una bellissima domanda Questa sul confine La differenza E la continuità Fra sviluppo personale E sviluppo spirituale Bellissimo quello che diceva poco fa Antonella La felicità Mi sono chiesta Se veramente ero felice E la risposta è stata Drammaticamente No Ecco La parola chiave Nell'ambito della crescita personale E' quella della libertà Cioè espandere Dicevo consapevolezza prima Ma è lo stesso La consapevolezza Ti permette di diventare libero Dai tuoi limiti Di espandere i tuoi limiti E quindi concludevo prima dicendo Uno si rivolge all'ambito Della crescita personale Quando vuole la libertà O desidera più libertà Aspira alla libertà Quindi un po' il tema dominante Della crescita personale E' più libertà E così espandendo E rinforzando il tuo carattere Tu diventi una persona Sempre più libera Libera da limitazioni E così via Però Però Ladies and gentlemen Quando raggiungi Un certo grado di libertà Nel mondo A quel punto ti accorgi Che libertà Non è sinonimo di felicità Cioè attenzione La libertà è un prerequisito Della felicità E' difficile aspirare A ottenere la vera felicità Se non è neanche Quelle libertà fondamentali Che ne so Essere libero Dalle preoccupazioni Della sopravvivenza Oggi avrò da mangiare Avrò da bere Avrò da coprirmi dal freddo E avrò un tetto Sulla mia testa Se non sei libero Neanche da queste preoccupazioni Fondamentali Difficilmente ti inizi Proprio a preoccupare Della felicità Però ecco in che senso La libertà E' un prerequisito Quindi conquisti La libertà E espandi O come diceva Antonella Con i suoi negozi In Costa Smeralda Puoi anche raggiungere Il successo mondano A 360 gradi Però a un certo punto Ti accorgi Quella libertà Di movimento Libertà di scelta Di cui godi Non è sinonimo Di felicità Anzi Se invece la continuiamo A vedere Con la continuazione Della storia Che io raccontavo Dei gruppi Di crescita personale Delle terapie Dello sviluppo personale Strettamente inteso Se uno continua Su quella strada Da un certo momento In poi C'è addirittura Il rischio Che si possa andare In senso contrario Rispetto alla felicità In che senso? La libertà Tu la libertà La puoi usare In tanti modi diversi La puoi usare In modi intelligenti La puoi usare In modi maldestri Per esempio Puoi usare la libertà Per prevaricare gli altri Per esempio E' famoso Anche questo fraintendimento Della libertà Negli anni sessanta E anche negli anni settanta Ah ah Io sono un uomo libero Quindi Quindi posso fare Quello che mi pare Quindi scavalco la fila E arrivo prima degli altri No? Quella diventa Un'espressione Di libertà Di creatività personale Quindi Puoi usarla Per prevaricare gli altri Puoi usarla Per seguire capricci egoistici Puoi usarla Per importi Mancando di rispetto Agli altri E dopodiché Ti accorgi Che tutte queste cose Non ti rendono Felice Anzi ti rendono Meno felice Anzi sono cause Dirette di infelicità A volte Ti fanno tanti Nemici O ti rendono La vita difficile E le tue stesse azioni Quelle che tu Avevi definito Azioni di libertà In realtà Ti si rivoltano Contro No? Allora A quel momento Inizia a capire Che si Espando la mia libertà Personale Divento sempre più libero E così via Però capisci Che la realtà Con la R Maiuscola E' più grande Del tuo piccolo Io Allora capisci Una serie di cose Piano piano Prima capisci Che ci sono I diritti Degli altri E non ci sono Solo i diritti Tuoi E la tua libertà Personale Poi capisci Che gli altri Desiderano La felicità Proprio come te Gli altri Desiderano La felicità E cercano Di essere liberi Della sofferenza Precisamente come te E infine Idealmente Capisci Che io Il pensiero Io E' soltanto Un insieme di pensieri Per l'appunto E' soltanto Un insieme di pregiudizi Quello che è noi Quello che governa Le nostre vite Questo fantomatico Senso dell'io Non è altro Che un insieme di pensieri E quando togliamo Questi pensieri Non è che rimane Più tanto Di quello A cui noi ci aggrappiamo E definiamo come io Quindi questi sono Un po' i capisaldi Questi sono Un po' i capisaldi Sono le tre essenze Della spiritualità Di un percorso spirituale Primo Renderci conto Che non sono Non esiste soltanto I nostri diritti Ma ci sono anche I diritti degli altri Cioè Non solo La nostra felicità Ma la felicità Degli altri Questo lo chiamiamo Virtù La virtù La virtù È il primo Dei tre capisaldi Di un vero percorso spirituale Se no Non si chiama Percorso spirituale Quindi virtù Per virtù Intendo la condotta etica Il rispetto degli altri O almeno azioni Del corpo Della parola E della mente Che non danneggiano gli altri Quindi la virtù Si comincia dalla virtù Poi Ti accorgi Che gli altri Desiderano felicità Come te E quindi Quella è la compassione O l'amore La compassione È l'amore E sono il secondo Essenza Il secondo caposaldo Di ogni sentiero spirituale Perché quando ti accorgi Che gli altri Desiderano la felicità Esattamente come te Allora capisci Che la tua felicità Non è più importante Di quella degli altri E allora come minimo Se hai un po' di sale In zucca E hai un po' di calore Nel cuore Devi cercare di fare qualcosa Non solo per te stesso Ma anche per aiutare Gli altri In questa vita E in questo mondo Quindi virtù Compassione E saggezza Saggezza È la terza E saggezza È il La sto descrivendo Come lo Viene descritto Dai maestri Del buddismo tibetano Questi tre Virtù Compassione E saggezza Poi ogni sentiero spirituale Ha le sue definizioni Diverse ovviamente Saggezza vuol dire È un po' il culbine Del percorso spirituale Vuol dire Quando ti rendi conto Che Che cos'è questo Il pensiero io Che condiziona Tutta la nostra vita E ti rendi conto Che questo pensiero io Che condiziona La tua vita In realtà Non è altro che un pensiero E quando Inizia a aspirare Desiderare Di diventare Libero dal pensiero io Perché hai scoperto Che è la fonte Di tutti i problemi Perché più sei concentrato Su te stesso Più incontri ostacoli Problemi Preoccupazioni E così via Più invece la tua mente E il tuo cuore Sono in uno stato Di apertura Meno sei concentrato Su te stesso E più tutto quanto Va a meraviglia E può accadere Anche un senso Di grande apertura Di connessione Con tutto Di flusso Di stato Di grazia E via via Di risveglio Di illuminazione E così via Quello è Questo è un po' Il percorso Il progresso Ora Quando tu Inizi E questo forse È una delle differenze Più grandi Tra lo sviluppo Personale Quello spirituale Innanzitutto Inizi dalla motivazione Di superare Il pensiero io Poi ricevi Gli insegnamenti Cioè i metodi Per liberarsi Dal pensiero io E poi li metti In pratica Un altro sforzo Personale E questa è la differenza Ripeto Rispetto alla crescita Personale Si lavora Non all'interno Del All'interno Dei confini Del senso dell'io Per diventare Più forti Più potenti Più di successo Più realizzati Io 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 Eccetera Eccetera Ma si fa il salto Della barricata Si esce al di fuori Del senso io E ti accorci Di quanto è piccolo E imprigionante Questo senso dell'io E quanto c'è Tanto di più Da scoprire Al di fuori Di questo senso Dell'io No? Prima facevo un esempio Dicevo Quando una persona Consapevole Entra in una sala Affollata Tutti la notano Beh Paradossalmente Invece Quando una persona Illuminata Entra O una persona Illuminata Una persona Molto progredita Spiritualmente Entra in una sala Affollata Può darsi che Nessuno lo nota Invece Perché è diventato Una persona ordinaria Ordinaria Con la O Maiuscola Essere una persona Ordinaria Vuol dire Sei diventata Una persona Che fluisce Con tutte le cose Tutte le persone E così via E a quel punto All'inizio Tu non la noti Se inizi a interagire Con questa persona Rimani Travolto Dalle sue Benedizioni Molto spesso Ma all'inizio Una persona Illuminata Ti sembra Una persona Assolutamente Ordinaria E quella Ordinarietà È proprio La forza E della realizzazione Di questa persona Illuminata Ok Concludendo Marco La dimensione Personale È quella Di rafforzare Il proprio Io E questo È anche un bene Non è un male All'inizio Bisogna rafforzare Il proprio io Nel senso Di renderlo Multidimensionale Come dicevo prima Cioè Di non essere Quelle persone Specializzate Che sono capaci Di fare Soltanto una cosa Nella vita E non sanno fare Altro Per esempio Quelli che sanno Solo lamentarsi E non sanno Sorridere O quelli che sanno Soltanto arrabbiarsi E non sanno Fare le capriole Nella vita E così via E quindi Rafforzare Il proprio io Rendono Multidimensionale E questo significa Crescere la propria Libertà Di scelta E libertà Di movimento Nel mondo Invece La dimensione Spirituale Consiste nel Trascendere Cioè Superare Andare oltre Il senso Dell'io Cioè Scoprire Cosa esiste Oltre Il senso Dell'io Quando siamo Liberi Da questa dittatura Di pensare Costantemente Io 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 E questo qui Ci porta a realizzare La vera felicità Con la F Maiuscola E la nostra Vera natura Con la N Maiuscola Ok Iniziamo questa Sezione successiva Con una richiesta Di Paolo Ciao Italo Scusa Ciao Italo Un immenso grazie Per il tuo impegno E la chiarezza Con la quale diffondi Importanti informazioni E con la quale Esprimi le tue idee Vorrei sottoporti La visione Di questo tipo Vorrei sottoporti La visione Di questo sito Webbot Trattino Project Project Punto Blogspot Punto Com Webbot Si scrive web Come rete Bot Come robot Quindi ci sono due B Webbot Riguardante Le predizioni Per il futuro Ricavate in modo scientifico Con il sistema Webbot Sistema Che ha previsto Negli ultimi anni Avvenimenti Molto importanti Quali L'11 settembre 2011 Lo tsunami Del 2004 L'Oceano Indiano Il disastro Del Columbia Nel 2003 L'Uragano Katrina E altri La ragione Per cui ti sottopongo Questa pagina Web E che Fra le tante Predizioni Una mi ha colpito Particolarmente Si riferisce Alla fine Di giugno Parla di una Mobilitazione Di militari In USA Contro personaggi Aventi a che fare Con le banche centrali E il famigerato Nuovo ordine Mondiale Credo Che il tuo ottimo Inglese Possa ricavare Facilmente Informazioni Utili A capire Se succederà Qualcosa Veramente Grazie Italo Anche per i tuoi Insegnamenti Un abbraccio Paolo Grazie a te Paolo Sì In effetti Grazie per questo Spunto Avevo comunque Il web bot Sotto la lente Ringrandimento Già Da molti anni Che lo seguo In realtà E seguo Anche in particolare Il suo fondatore Si chiama Cliff High La cosa La cosa che voglio Sottolineare Nel rispondere A questa Sottodomanda E nell'analizzare Questo nuovo documento Che è stato pubblicato Da poco Verso il 20 di maggio Verso la fine di maggio Dal web bot E che non si tratta Di profezie Non si tratta Di superstizione Si tratta Di cibernetica Di matematica E di algoritmi E quindi sono E come funziona Questo sistema È un sistema Che analizza L'insieme Delle comunicazioni E dei dati In tutte le lingue Riversate su internet A livello mondiale Ne calcola Dei trend E trasforma Questi trend In possibili Avvenimenti E con questo Come tu dici Ha realizzato Una storia Piuttosto impressionante Di casi di successo Se così possiamo dire Di avvenimenti Previsti Per tempo Dal web bot Oltre quelli Che ha indicato Ci sono tantissimi casi Di crollo delle borse Eccetera eccetera Sono stati Molto accuratamente Previsti dal web bot Anzi Il web bot È sorto Per applicazioni Inizialmente Di natura finanziaria Crisi di borsa E così via Per poi vedere Che invece Sorprendentemente Riusciva a predire O prevedere Un numero molto maggiore Di circostanze Ho ascoltato Un'intervista audio Abbastanza recente Direi un mese fa Di Cliff High Il fondatore Del web bot Dove lui diceva Che c'è stato un cambiamento Un cambiamento molto radicale Della conversazione umana E delle informazioni Che circano su internet Negli ultimi tempi Fino ad ora Da quando era esistito Il web bot Si potevano rintracciare Due tipi di trend Un trend Possiamo dire A breve termine E un trend O meglio Dei trend a breve termine E dei trend a lungo termine Laddove I trend a lungo termine Servivano a dare senso Cioè a interpretare I trend a breve termine Ora Secondo il fondatore Di web bot Questo Il linguaggio A lungo termine E i trend A lungo termine Sono praticamente Spariti Dalla conversazione Di internet Cosa significa Non lo chiedere a me Io ho ascoltato Che lui spiegava Questa cosa Ma non è poi Tanto facile Ci da capire Comunque Il linguaggio A lungo termine E i trend a lungo termine Sono spariti Quindi Questo ci lascia Praticamente Con un mare di dati E di trend A breve termine A cui è difficile Dare senso In mancanza di trend A lungo termine Tanto che addirittura Il fondatore Sta pensando Di cessare Presto o tardi La pubblicazione Di questi report A causa di questa difficoltà Di questi cambiamenti Fra l'altro E questa è una pure Semplice curiosità In quest'ultima intervista Di un mese fa Cliff High Stava dicendo Che stava Seriamente considerando L'idea Di lasciare Il suo lavoro Alla guida Di webbot E passare A lavorare A tempo pieno A sostegno Di One Heaven Giusto per Dire Insomma Che tipo Di persone Che tipo Di cervelli Che tipo Di menti Sta attraendo Questo progetto Chiamato Ukadia O One Heaven Ora Quindi con queste Avvertenze Cioè Che sono da prendere Con le pinze Queste previsioni Proprio perché Mancano dei trend Più significativi Che permettono Di interpretarli Ecco qual è In questo articolo Pubblicato a metà maggio Qual è la timeline Per quest'estate Che prevede Il nostro webbot La prima previsione È proprio per il 7, 8, 9 giugno Cioè domani Mentre io registro Cioè il giorno in cui esce Questo episodio Il podcast Quindi faremo molto presto A vedere Se è una fondatezza O meno 7, 8, 9 giugno Emergono scandali Che collegano Gli Stati Uniti D'America E il Vaticano E questi scandali Che emergeranno Riempiranno L'opinione pubblica Non solo di shock Ma di orrore E qui Dice che I dati Indicano Che verrà Intercettata Una comunicazione interna E si fa riferimento A USA E Vaticano E questa informazione Si diffonderà In maniera virale Sulla rete Nel giro di pochissime ore E tutto questo Sfocerà In clamorose novità In attese Per il Vaticano Durante tutti i mesi Di giugno E luglio Che porteranno Avvenimenti Di portata Molto molto grossa Quindi questo È un tipo Di avvenimento Che Secondo il webbot Ci dovremmo aspettare Per il 7, 8, 9 giugno Contemporaneamente Un altro avvenimento Quindi non necessariamente Collegati fra di loro È quello Che lui Non sa spiegare meglio Quando vedete il testo Fra parentesi quadra Questo significa Questo è quello Che siamo riusciti a capire Decifrando i dati Ma noi stessi Non siamo certi Di quello che significa Quindi in questo caso Fra parentesi quadra C'è scritto Blocco dei flussi finanziari Laddove neanche loro Capisco bene Che significa Ma ci sono dati Che indicano Un blocco Dei flussi finanziari C'è una situazione Altamente preoccupante A livello di finanza mondiale E dice appunto Che una grave situazione Finanziaria Emerge proprio il 7 L'8, 9 giugno E che diventa Un punto di svolta Nel destino Dei banksters E del sistema Delle banche centrali Non è il punto di rottura Dell'economia globale Perché il punto di rottura Arriverà più tardi Sempre nello stesso mese Di giugno Dove Mi dice qui Che la malattia islandese Fra virgolette Ovviamente Malattia dal punto di vista Dei banksters Questa malattia islandese Quindi l'Islanda Che si stacca Dal sistema monetario Internazionale Si propagerà Alla Spagna Alla Grecia E all'Italia In Spagna Diventerà Una vera e propria Ribellione popolare E Qui si ipotizza Che una persona Di rilevanza storica O una persona Di grande significato Simbolico Spagnola Diventerà il simbolo E la guida Di questa ribellione popolare E ci sono anche Indicazioni Che questa ribellione Avrà successo Sarà Qualunque cosa Questo significhi Coronata da successo Altrove Invece E qui parliamo Di Grecia E Italia A un certo punto Prevarrà La moderazione E Però qui mi dice Un dato abbastanza Sconcertante Mi dice Oppressori finanziari Catturati Dalle masse Non saranno Linciati Dalla folla Inferocita Ma saranno Rilasciati In modo tale Che le immagini Faranno il giro Del mondo E saranno Fra le più guardate In televisione Di tutti i tempi Quindi questa È la previsione Per più avanti La seconda metà Di giugno Sempre a partire Da questo punto Di svolta Che accade Nel 7 8 9 Giugno Ma le cui Implicazioni Si scateneranno Poi Nelle settimane Successive Durante tutto il mese Di giugno Poi invece C'è una seconda Previsione Per il 27 28 29 Giugno Qui mi dice Sorprendenti E inattesi Eventi militari Negli Stati Uniti Contro la popolazione Civile Quindi Sorprendenti Eventi militari In America Contro la popolazione Civile Qui non usa La parola Legge marziale Ma mi sembra Che si sta riferendo A una situazione Simile A quella Della legge Marziale E in risposta A questi sorprendenti Eventi Questi sorprendenti Eventi militari Ci sarebbe Ci potrebbe essere Una ribellione Armata Che potrebbe Protarsi Non solo Per mesi Ma per anni E questi eventi Continueranno Durante tutta La fine del 2012 E ampiamente Dentro il 2013 Creeranno Gravi problemi All'oligarchia Dominante Sia in America Che in Israele Che in tutto il mondo E nel frattempo Mi dice Che il proseguimento E le conseguenze Dell'esplosione Di questi scandali In America E nel Vaticano Di cui parlava Poco fa Delegittimeranno Completamente Ogni consenso Nei loro riguardi Mi parla Anche Di generalizzato Crollo Delle istituzioni Soprattutto Bancarie Degli oligarchi Che diventerà Evidentissimi In questi tre giorni 27, 28 e 29 giugno E questo Accadrà In contemporanea Quelle prime vittime Dei sorprendenti Eventi militari Che si tratta Di un colpo di stato Di una legge marziale E così via Non lo sappiamo Ammesso che accadrà I dati indicano Che per ciascuna vittima Di questi eventi militari Moriranno migliaia Di collaborazionisti Nella reazione popolare Contro questi Cattivi O militari O comunque siano E in questi tre giorni Che ripeto Sono il 27, 28 e 29 giugno Si raggiungerà Il punto di rottura O punto di non ritorno Soprattutto dal punto di vista Delle banche centrali Anche se questo forse Non si capirà al momento Ma Un po' di tempo dopo Risulterà chiaro Che i tre giorni Del punto di svolta Erano proprio questi tre 27, 28 e 29 giugno Poi qui mi da Un'altra previsione Per il 4 O meglio Dal 4 al 10 luglio Però questa con un'approssimazione Di più o meno tre giorni Quindi diciamo La prima età Dall'inizio di luglio Alla metà di luglio Mi dice Eventi inattesi Per mare Sottoterra E nell'atmosfera Faranno crescere Esponenzialmente Le preoccupazioni mondiali Per Fukushima Per i reattori nucleari Del Giappone E qui noi Preghiamo in ginocchio Che questa possa essere Una predizione sbagliata Come tutte le altre D'altronde Nonostante Gli straordinari Eventi militari In corso di svolgimento In America E nel resto del mondo Fukushima Catturerà l'attenzione Della popolazione mondiale Fra il 10 luglio E il 14 dicembre Addirittura Poi La predizione successiva Per il 17 18 19 luglio Più o meno Tre giorni Quindi da Più o meno Tre giorni 17 18 19 luglio Insoliti eventi Apparentemente Provenienti Dallo spazio Qualsiasi cosa Questo significhi Causeranno Una breve Sospensione Delle ostilità In questa specie Di guerra civile Che sta profilando Queste predizioni Causeranno Una breve Sospensione Delle ostilità Non ci sono dati Che indicano Alcuna minaccia Per la popolazione E neanche Minacce reali Nei riguardi Dell'oligarchia Criminale O dell'oligarchia Dominante È qualcosa Di abbastanza Circoscritto Nello spazio E nel tempo Ma sufficiente A causare Una momentanea Sospensione Delle ostilità Ancora C'è un'altra Previsione Questa è la penultima Che va Dal 31 luglio Al 9 agosto Più o meno Nove giorni Parla Della possibilità Di una notte Orribile Negli Stati Uniti Un'orribile notte Che sarà descritta Come un punto di svolta Destinata a produrre Una specie di comprensione Nella mente Dell'oligarchia finanziaria E al tempo stesso Influencerà Profondamente Lo svolgimento Dei giochi olimpici E infine L'ultima previsione Mi dice Il 12 agosto Mentre tutti Gli occhi del mondo Saranno puntati Sui giochi olimpici C'è il possibile Affondamento Di portaerei Atomiche Degli Stati Uniti Nel Golfo Persico Potenzialmente Da agenti Del Mossad Agenti segreti Israeliani Che si fingono Iraniani Per fornire Un pretesto Per l'attacco All'Iran E anche Già che ci stiamo Per diffondere Un po' di radiazione Per ridurre Il numero Di questi Noiosi E seccanti Essere umani Che sembrano Insistere Nell'abitare Questo pianeta E che noi vogliamo Ovviamente Depopolare Va bene Le previsioni Per il momento Si fermano qui Arrivano Da oggi Praticamente Al 12 di agosto E La redazione Qui del web Del web bot Dice di averne pronte Già delle altre Aggiornamenti Sono pronti Per la pubblicazione E verranno pubblicati Man mano Che trascorre Il tempo Che dire Auguriamoci Alcuni di queste Veramente Mi augurerei Sicuramente Che accadano E accadano Esattamente Come sono descritte Qui Altre Invece Ci auguriamo Che non accadano In qualsiasi caso Questo non compete E non dipende Da noi Fra 15 secondi L'angolo Delle risorse Bene La prima risorsa Consigliata Per oggi È www.energytraining.it Ed in realtà È una specie Di consiglio pubblicitario Però te lo passo Anche perché Sono fermamente convinto Che possa fare Tanto tanto bene Per te Per la tua salute E per la salute Delle persone Che ti sono vicine Energytraining.it Nel marzo del 2007 Cinque anni fa Io e la mia famiglia Eravamo letteralmente In punto di bancarotta E in quel momento Mia moglie e Dio Ci siamo Abbiamo concentrato Tutti i nostri sforzi Su cercare di capire Cos'è Che noi Fino a questo momento Nella nostra vita Sappiamo Quali conoscenze Abbiamo messo insieme Che possiamo mettere Al servizio Degli altri Così possiamo Guadagnarci da vivere In maniera etica E dignitosa Diciamo che le priorità In quel momento Erano due Priorità numero uno Guadagnarci da vivere Perché le cose Stavano andando malissimo Però priorità numero due Senza più compromessi Guadagnarci da vivere In modo etico E dignitoso Così Con questo autoesame Ci siamo detti Che avevamo 25 anni A testa Di profondissima Direi Esperienza Nel campo Dell'alimentazione E della salute Naturali 25 anni A testa Quindi per un totale Di 50 anni Sulla nostra pelle Non di studi Ma di esperienze dirette Sia studi Approfonditi E appassionati E come sai Quando uno fa Studi Approfonditi E appassionati Questo vale più Dei titoli accademici Anche se Anche se anche quelli Ci sono Francesca Mia moglie È naturopata Poi 25 anni Di esperienza Personale Su noi stessi Sulla nostra pelle Nel crescere I nostri tre figli Che oggi Sono diventati Tutte e tre Ampiamente Maggiorenni Li abbiamo interamente Cresciuti Con le diete E con l'approccio Di salute naturale Poi abbiamo iniziato Le nostre prime esperienze Con il primo centro Di alimentazione naturale Fondato nella nostra città Nel 1984 Quando ancora nessuno Sapeva cosa significasse Biologico Naturale E così via E così Ci siamo fatti Tantissima esperienza Sul campo In trincea Nell'aiutare Migliaia di amici E clienti Anche a quell'epoca A recuperare la salute Francesca ha fatto Veramente esperienza Sul campo Con migliaia di pazienti Che ha visitato Consigliato Nella dieta Lavorando anche Al fianco di importanti Medici Anche al seno A progetti all'intero Dell'università Policlinico di Bari E così via Beh insomma Da quando abbiamo deciso Di avviare questo programma Nel 2007 Ad oggi In questi cinque anni Questo programma Ha preso forma Si chiama Energy Training Ed è diventato Il programma Di alimentazione Energetica E di salute naturale Più venduto Direi Sulla rete In lingua italiana E infatti Mi stupisce Se tu non hai ancora Sentito parlare E quindi Qual è il punto di forza Di questo programma Il punto di forza È che da vere cavie Noi Mia moglie e Dio La nostra famiglia I nostri figli I nostri amici Abbiamo provato Tutti gli approcci Alla medicina All'alimentazione naturale Fin al punto Che se tu sei in grado Di nominarne uno Io ti posso garantire Che noi Lo abbiamo sperimentato Sulla nostra pelle E abbiamo scoperto Incredibilmente Che Tutti gli approcci Funzionano Ed ecco perché ci sono Tantissime testimonianze Di guarigione Anche da malattie Considerate gravissime Da cancre Malattie degenerative E così via Con approcci diversissimi Fra di loro Che non si spiegherebbe Approcci diametralmente opposti Tu vai in libreria Troverai libri Ecco come ho guarito il cancro Mangiando tutto crudo Il crudismo E poi troverai a fianco Un libro Ecco come ho guarito il cancro Il cancro Mangiando tutto cotto Per esempio La macrobiotica E sono veri Entrambi i casi Però ecco Nessuno si spiega Com'è Come questo sia possibile E nessuno si spiega Perché Nessun metodo Nessun approccio In realtà Funziona mai Per tutti Quello che noi abbiamo scoperto È che la chiave Per far funzionare Questi approcci È la personalizzazione Perché i metodi Valgono Soltanto E sono applicati Sulla base Della conoscenza Del tipo di costituzione Individuale A cui si applicano Proprio perché Ogni persona È diversa Dalle altre Questa Della personalizzazione Della estrema Personalizzazione Per quanto si parla Di dieta E di salute naturale È un po' L'arte E la scienza Che mia moglie Francesca Ha coltivato In tutti questi anni E che ha Appena lanciato Nella nuovissima versione Di questo programma Energy Training In cui La chiave L'approccio Di questo programma Energy Training È Non solo Superare i malanni Superare i problemi Di salute Eccetera Ma anche Superare Quei limiti Di stanchezza Di mancanza Di tono Di vitalità Mancanza Di concentrazione Mentale Di forza Interiore Tutte quelle cose Che noi consideriamo Normali Ma che normali Non sono Non dovrebbero essere E sono invece Nella maggior parte Dei casi Causati Da una dieta Quotidiana Inadatta A noi stessi Tu pensa Tu pensa se tu Mangi tutti i giorni Un cibo Che Non si addice Alla tua costituzione Tutti i giorni Un particolare cibo Che ti ruba energia Anziché darti energia E prendi per esempio Che invece Non mangi mai Un certo tipo di cibo Che invece sarebbe fatto Proprio su misura Per te E ti darebbe tantissima energia Tu vai avanti qualche anno Con alimentazione così E dopodiché Sei un rottame E non sai spiegarti perché Non sai spiegarti perché È sempre fiacco Perché è sempre mal di testa Perché questi malanni Eccetera Eccetera Ora Qui ci sono due buone notizie La prima buona notizia È che per cinque anni Abbiamo venduto Ogni giorno Questo programma Energy Training A 197 euro Adesso Invece Abbiamo appena Messo in vendita E lanciato La nuovissima versione Aggiornata Ampliata Potenziata Quindi di valore Maggiore rispetto alla precedente A soli 47 euro Cioè Metà Della metà Di quanto lo vendevamo Fino a ieri Perché abbiamo deciso Di fare questo Perché Come dire La salute non apprezzo In un certo senso E per molti In questo tempo Le finanze Sono sicuramente Ristrette La seconda buona notizia Però è che Anche se non vuoi Comprare niente O non puoi permetterti Di comprare niente E di partecipare A questo programma Energy Training Francesca Ha appena completato Un video Un video seminario Che è completamente gratuito E oltre un'ora di video Che ti raccomando Assolutamente Questo video seminario Si intitola La soluzione perfetta A ogni problema di salute E contiene addirittura Un questionario Personalizzato Che ti aiuta A scoprire Qual è la tua Costituzione Individuale Quindi alla fine Di questo video Di questo questionario Ricevi consigli Personalizzati Non astratti Non astratti Ma personalizzati In modo che tu Possa calibrare La tua alimentazione Non su principi astratti Ma esattamente Su quella che è La tua costituzione Individuale Ora quindi Questo è il regalo Per te È un video seminario Gratuito Lo trovi su www.energytraining.it E ti raccomando Assolutamente Di guardarlo Perché è il condensato Di decenni Di esperienza La seconda notizia E questo è un voltamento Di pagine Rispetto a questo Ripeto Spot pubblicitario Ma che ritengo Veramente utile Per te La seconda notizia La seconda risorsa È invece un video Il video integrale Di Paolo Barnard Che si intitola Il più grande crimine A proposito Di questo video Il più grande crimine Che veramente Meritava finalmente D'essere pubblicato Sulle pagine Di tempo di cambiare Ti voglio leggere Un commento Di uno dei nostri Ascoltatori Che si chiama Patrizia Sulle pagine Del nostro blog Patrizia scrive Con il trattato Di Lisbona L'Unione Europea Ha previsto La possibilità Per i cittadini Di partecipare Direttamente All'attività legislativa L'iniziativa Dei cittadini europei Consente A un milione Di cittadini Appartenenti Ad almeno Sette paesi Dell'Unione Europea E che hanno raggiunto L'età Per la quale Si acquisisce Il diritto di voto Per elezione Al Parlamento Di sostenere La presentazione Di proposte Legislative Della commissione europea Questo strumento Di democrazia Partecipativa Inedito nel panorama Internazionale Rafforza le basi Democratiche Dell'Unione E consentirà Una volta entrato Al regime Una partecipazione Più attiva Della società Civile Alle decisioni Delle istituzioni Europee Ora Io qui Mi fermo Anche perché Sto andando In ipnosi Nel senso Che non riesco a capire Che o Patrizia Sta scherzando E questo è sempre possibile Con quei buon temponi Che sono i nostri ascoltatori Oppure C'è ancora adesso Chi non ha capito Cos'è in realtà Il trattato di Lisbona Perché Patrizia Mi sta dicendo Se sta dicendo seriamente Che è un fatto Meraviglioso Che il nostro Ordinamento giuridico Il trattato di Lisbona In particolare Prevede Magnanimamente Che un milione Di cittadini Purché siano almeno Di sette paesi diversi Quindi immagina Le difficoltà Con l'Europa Dove non ci sono Neanche due soli stati Che parlano la stessa lingua Vabbè comunque Ci dovrà essere Minimo sette paesi diversi Per un totale Di un milione Di cittadini E a questo punto Potranno umilmente Presentare una proposta Di legge Alla commissione Affinché la commissione La prenda in considerazione Per decidere Se discuterla o meno La quale commissione europea Ricorda Patrizia Non è eletta È un organo Dittatoriale A tutti gli effetti E su Youtube Abbiamo i video Delle battaglie Che si combattono Nel Parlamento Europeo Affinché Si Faccia giustizia Di questo scandalo Per cui siamo governati Ma non così Genericamente Siamo governati In ogni minuscolo aspetto Da nostra vita quotidiana Incluso il peso Delle pagnotte E gli ingredienti Che usiamo Nei cibi Che mangiamo ogni giorno Perfino queste scemenze Sono regolate Da una commissione Non eletta E che è stata messa lì Nel caso Ti stai domandando Sempre dalla stessa Oligarchia finanziaria Ora Per onorare L'eccellente lavoro Che ha fatto fin qui Paolo Barnard E il fatto che non abbiamo parlato Questo video risorsa E anche perché per me È È È uno scandalo Che Patrizia Possa veramente Pensare A quello che ha scritto Oltretutto Oltretutto Quello che Patrizia Ha scritto Dimostra Che le persone Idealiste Le persone Migliori Le persone Di buon cuore Perché io sono certo Che Patrizia È una persona Idealista Una persona Altruista Una persona Di slancio Una persona Di buon cuore Così come Una persona Ingenua Sono proprio Le persone Che sono sfruttate Da un sistema Spietato Che fa credere Proprio a queste persone I valori Democratici Di Un obbrobrio Come è Il trattato di Lisbona E la nostra Commissione europea Che ci governa Quindi Se vuoi toglierti Ogni dubbio A questo proposito Devi assolutamente Mollare tutto quello Che stai facendo Dura un'ora e un quarto Devi guardarti Questo video Di Paolo Barnard Dopo averlo guardato Nessuno potrà dire Che non sa Quello che sta accadendo In Europa In realtà Nonostante Tutte le 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 menzogne Che ci fanno Passare I giornali Che sono di proprietà Degli stessi individui Che ci hanno dato La commissione europea Non eletta E così via La Successiva risorsa Consigliata per questa settimana È un breve video Di Gerald Salente Gerald Salente È uno studioso Di trend Quindi oggi Continuiamo Su questa Tendenza Dei trend È uno studioso Di trend Anche lui Con una storia Di accuratezza Bastanza Impressionante Nelle sue Previsioni Pubblica anche Una newsletter Trimestrale Su questo argomento Sulle sue Previsioni A cui sono abbonato Da molti anni In questo video Ci sono le previsioni Gerald Salente Per il 2012 Con sottotitoli italiani Gerald Salente È naturalmente Un'italo-americana Gerald Celente Che per noi Ce la rende anche Più simpatico Per questo modo In cui gesticola Con le mani Nei tipici gesti Dell'italo-americano Di New York Comunque Comunque A parte questo Molte delle rivelazioni O delle predizioni Che ci farà Gerald Salente In questo video Non sono piacevoli Certamente Però io penso Che uno che sa Può sempre fare Preparativi concreti No? Ed essere preparati O come minimo Può fare preparativi Psicologici E avere comunque Un vantaggio Su chi non sa E che dunque Si troverà colto Completamente di sorpresa Infine per oggi L'ultima Tra le risorse consigliate È il sito Di Santos Bonacci Le avevo promesso Di consigliarlo Qui fra i nostri link Quindi eccolo qui www.universaltruthschool.com Per approfondire Il suo lavoro Fra 15 secondi È l'angolo degli ascoltatori Così Completiamo anche Questo episodio Con l'angolo degli ascoltatori L'angolo delle domande Delle riflessioni Dei commenti E dei feedback Sempre ti invito A visitare Il blog Su www.tempodicambiare.it Sotto l'ultimo Degli episodi Troverai sempre Una sfizza Di centinaia E centinaia Di commenti Che sono quello Che realmente Anima E rende vivo Questo podcast Sotto l'episodio Numero 9 Lo scorso episodio Al commento Numero 406 C'è un commento Di Michele Che è un trattato Quindi non lo leggo Qui interamente Anzi non lo leggo affatto Però ti raccomando Di leggere Il commento di Michele Commento numero 406 Del non episodio Se sei interessato A approfondire Il discorso Del diritto marittimo Della sovranità individuale Dello uniform commercial code E di tutte le differenze Che ci sono Fra l'America E in Italia Per quanto riguarda L'ordinamento giuridico E perché Questi Questi approcci Si applicano Così perfettamente In America Nei paesi anglosassoni E meno Da noi Questo fino ad ora È il più Il più La più completa indagine Che sia stata fatta Al nostro interno Nella nostra comunità Da uno dei nostri ascoltatori Quindi grazie A Michele Per questo Commento 406 Dell'episodio 9 Poi la domanda successiva È di Neria Che saluto Caro Italo Tosto questo nono episodio Certo va risentito E risentito E così farò Vorrei dirti però Che mi hanno molto confuso I riferimenti a Forza del bene Forza del male Dio Cristo Anticristo La guerra finale Fra bene e il male Eccetera Tutto questo Come posso accostarlo All'insegnamento del Buddha Naturalmente trovo giusto Che ci si debba ribellare Al sistema Dopo essersi Dopo essere diventati Consapevoli Di essere preda Di pochi esseri oscurati Da molti veli Anche se essere preda Dipende comunque Da ognuno di noi E delle nostre azioni Anzi non azioni Mi puoi chiarire Questo attimo Di sbandamento Grazie Neria Grazie a te Neria Neria scrive ovviamente Questa sua domanda Da persona appartenente A un'altra tradizione Spirituale Ma rispondo molto Volentieri A Neria Perché questo vale Non solo per tutti I nostri ascoltatori Che si sentono Appartenere ad altre Tradizioni spirituali Ma anche a tutti Quelli che si diviscono Laici Non religiosi Agnostici Atei Eccetera eccetera Non credenti E così via Che comunque Sono parecchi Sicuramente Fra le fila Dei nostri ascoltatori La mia risposta A Neria È che sono proprio Loro L'elite Corrotta A basare Tutto il proprio potere Su questa falsa Narrativa Che sono tutti Questi falsi argomenti Di cui tu hai parlato Qual è una falsa Narrativa Loro usano Questa falsa narrativa Per condizionare La storia Per condizionare Le religioni Per condizionare La mente Degli uomini In ultima analisi Queste visioni Hanno condizionato Presantemente La storia E tutt'oggi Proprio adesso Condizionano L'attualità Sono diventate Delle specie Di maledizioni Che aleggiano Sugli eventi E sulla coscienza Di tutti gli esseri viventi Quindi è importante Che tu Anzitutto Conosca L'esistenza Di queste superstizioni Perché io le chiamo così Poi sappia Quanta sofferenza Hanno causato E continuano a causare Al mondo Queste superstizioni Ed è importante poi Che tu sappia Come rispondere Le loro stesse idee Perché le loro stesse idee Quando sono Affrontate A dibattito Rivelano essere Illogiche O si rivelano Essere In cattiva fede Una delle due E non è possibile Che non sia Una terza possibilità Chiunque usa Motivazioni religiose Per giustificare Il proprio Dominio E controllo Interessato Sullo stato Di cose presenti O usa argomenti Illogici O in cattiva fede Anzi Estendo ancora di più Chiunque usa Motivazioni religiose Per giustificare Lo stato Di cose presenti Come fanno Molti cosiddetti Fedeli Usano motivazioni Religiose Per giustificare Lo stato Di cose presenti Questo tipo di persone O sono illogiche O sono in cattiva fede Perché ne tragano Un tornaconto Non esiste Una terza possibilità Quindi questa è La risposta per te Nerea Ed è ovvio Che anch'io In quanto buddista Non credo In questa narrativa Ma penso Che sia importante Rispondere A questa narrativa Usando le loro Stesse parole E rivelando L'illogicità Delle loro affermazioni Lo ritengo Estremamente importante E così Credo e spero Di aver chiarito Questo Non solo a Nere Ma a tutti Persone che forse Saranno rimaste sorprese Da sentirmi parlare Di Dio Legge divina E così via Che non sono argomenti Su con cui Necessariamente Io sono Familiare Per via Brindare la fratellanza Perché lo dico io Sicuramente non devi farlo Perché lo dice One Heaven Questo è certo Però ecco Fammi fare un'osservazione interessante Qui siamo Come si dice Il mondo è bello Perché è vario Quindi questa domanda È totalmente All'opposto Della domanda Di Nere Perché Nere Diceva Ma come dobbiamo fare Di affrontare Queste tematiche Visto che per noi Sono tutte Favole Superstizioni Probabilmente Addirittura Create Artificiosamente In malafede Quindi La domanda Di Carlo È proprio L'esatto Contrario Di quella Di Nere Cioè Carlo dice Non solo lui Crede che queste forze Cioè il bene Il male Esistano Intrinsecamente Al contrario Di Nere Ma crede che Sono anche Inconciliabili Allora Qui Carlo La tua prima obiezione Dice praticamente Gli angeli sono angeli I demoni sono demoni Non potranno mai vivere In armonia fra loro Io ti invito A continuare a riflettere Su questo Perché La visione spirituale Che tu stai portando avanti È molto Molto Come dire Grossolana Sono certo Che la tua comprensione Si può affinare Moltissimo Se tu continui A riflettere Su questo Anzi Il risultato Di questa riflessione Te lo garantisco Sarà una maggiore Chiarezza E felicità Per te stesso Oltre che la migliore Capacità Di aiutare Gli altri Per questa prima Obiezione Che gli angeli E i demoni Non potranno mai Vivere in armonia Ti do Due spunti Di riflessione Poi tu ovviamente Ne farai Quello che vorrai Se tu credi Che il bene E il male Esistono Intrinsecamente Di per se stessi E condizionano La vita Degli esseri umani Fin dall'inizio Dei tempi Poiché Non hanno mai Potuto farlo Senza il consenso Degli uomini E di questo Ne ho parlato A fino alla nausea Nello scorso episodio L'episodio 9 Mai Nessuna Di queste forze Bene Male Angeli Demoni Non ho mai Potuto fare Nulla Senza il consenso Umano E non lo faranno mai Con buona pace Di chi parla Di invasioni aliene E così via Io non ho paura Delle invasioni aliene Perché le invasioni aliene Se ci devono essere Ci sarebbero già state Millenni fa Queste cose Possono accadere Soltanto Attraverso Il libero arbitro Degli esseri umani Hanno bisogno Assoluto Del libero arbitro Del consenso Degli esseri umani E l'intera storia Se è vera Che ce lo dimostra Anche ammesso E non concesso Che tu Carlo Credi nelle abduzioni Aliene Gli esperti Quelli che studiano Queste cose Ti diranno Che nessuno Può essere abdotto O portato via Senza essere In qualche modo Convinto O persuaso Quindi è una questione Di forza di carattere O una questione Di virtù Dovrei dire Se gli alieni O i demoni Perché per molti Gli alieni I grigi Cosiddetti E i demoni Non sono in alto Quella stessa cosa Per molti Non lo dico io Per molti ricercatori Demoni e alieni Sono praticamente Sinonimi Se gli alieni O demoni Esistono Non verranno mai Da quelli Che sono forti Di carattere Non verranno mai Da quelli Che hanno virtù Carlo La parola chiave La parola chiave È la virtù È la virtù Quella singola forza Che scaccia tutti i demoni Quindi l'unica cosa Che può neutralizzare Per sempre i demoni Se tu credi Che siano Intrinsecamente Esistenti Dalla loro propria parte L'unica cosa Che può neutralizzarli È dir loro Amici cari Su questo pianeta Gli angeli Demoni Sono in pace Quindi Andatevene Subito Adesso E quel demoni Sparirà Non potrà mai Più tornare Alla tua presenza Scomparirà Sottoterra In tua presenza Quindi Carlo Non sottovalutare La forza Della mente umana Sarebbe veramente Il più grave errore Che tu possa fare E poi Il secondo spunto Di riflessione Che voglio darti È se tu invece Al contrario Non credi Che siano Intrinsecamente Esistenti Questa sarebbe Già una Comprensione spirituale Più raffinata Se tu non credi Che sono Intrinsecamente esistenti Ma in un certo senso Rispecchiano Rappresentano Delle forze Che sono presenti Nella nostra stessa mente È come se In un certo senso Sono parti Di noi stesse Allora A maggior ragione A maggior ragione Proclamare La pace Definitiva Fra il bene E il male In questo mondo Non può che guarire Per sempre La sofferenza Di questo mondo Ammesso Non concesso Che questo mondo Sia destinato A essere libero Dalla sofferenza E questo ne parlavo In un episodio precedente Però lo può diventare Carlo Se uno solo Se uno solo Si può liberare Vuol dire che Tutti si possono liberare Se uno si può liberare Dalla paura Se uno si può liberare Dalla sofferenza Se uno si può liberare Dal male O se uno si può liberare Dalla guerra Fra il male e il bene Tutti si possono liberare E questa era la tua Prima obiezione La seconda obiezione Di Carlo era Come possiamo perdonare Fautori di crimini Contro l'umanità Come Stalin Hitler Ceaușescu Addirittura Santificarli Ok Allora Non so se vuoi La risposta seria O la risposta ironica Ti do prima La risposta ironica Cioè La risposta ironica Sarebbe Se può farlo La chiesa cattolica Lo possiamo fare Anche noi Cioè Dato che Le schiere Di cosiddetti santi Fra le schiere Di cosiddetti santi Qualsiasi ricerca Storica Ti mostrerà Che una grossa Fetta di questi Cosiddetti santi Sono Letteralmente Non sto esagerando Sterminatori di massa Crociati Autori di crimini Contro l'umanità Inquisitori Torturatori Conquistadores Autori di sacrifici umani Non sto esagerando E te la posso documentare Bene Se loro Se la chiesa cattolica Ha fatto questo Ha fatto santi Questo genere di persone Allora a questo punto Come dire Per par condicio Mi sembra giusto Fare santi tutti E questa Vabbè Mettiamo la parte È la risposta ironica Fanne quello che vuoi La risposta seria È che È che Anche su questo Devi continuare a riflettere Perché Anche su questo Devi continuare a riflettere Niente è in grado Di guarire Questo mondo Come il perdono A tutti i livelli A livello dell'individuo A livello del condominio A livello del quartiere A livello collettivo A livello sociale A livello internazionale A livello familiare Niente è in grado Di guarire Questo mondo Completamente Come il perdono Poi ci sono Guarda ci sono Ormai migliaia Puoi andare in qualsiasi Libreria Ci sono Migliaia e migliaia Se non decine Di migliaia Di testimonianze Raccolte in tutto il mondo In tantissimi libri Su quelle che sono Le esperienze per i mortali No? Persone che sono morte E poi per qualche Bizzarro caso Entro la prima mezz'ora Più o meno Il cuore è ripreso a battere Mentre quella persona Era clinicamente morta E anche il cervello Aveva l'elettroencefalogramma Come si dice L'elettroencefalogramma piatto E Elettrocardiogramma piatto Ormai abbiamo migliaia Di testimonianze Raccolte da queste persone Che fra virgolette Sono tornate Tutte I loro racconti Dicono Raccontano Ripetono Sempre la stessa cosa Mostrano che alla fine Noi vediamo Quando ce ne andiamo Vediamo Vediamo Con chiarezza E comprendiamo Tutto quello Che abbiamo fatto In questa vita E comprendiamo Perfettamente Per filo E per segno Dov'è che abbiamo sbagliato E sappiamo per certo Da dove ricominciare A riparare Quello sbaglio Per il bene nostro Per il bene Della nostra felicità futura E per il bene Di tutti gli esseri viventi Perché è in quel momento Che scopriamo Quanto l'amore È importante Nella nostra vita E quanto avevamo Trascurato questo aspetto Carlo Nessuno è mai tornato Uguale a prima Dopo un'esperienza Per i mortali Si tratta sempre Di persone Profondamente trasformate E questo Significa Che in un certo senso Tutti diventiamo Santi Al momento Della morte E questo risponde Alla sua domanda La domanda successiva E probabilmente E forse anche l'ultima Per oggi È di Roberto Roberto Beh più o meno Sulla stessa lunghezza tonda In realtà Roberto mi scrive Signori Per quanto ho potuto apprendere Ukadia propone Una soluzione Al conflitto universale In netto contrasto Con le soluzioni Del conflitto Descritto dalla Bibbia Ricordo che la Bibbia È impostata Totalmente Su questo conflitto A mio avviso La Bibbia Rimane la fonte principale Più attendibile Sull'argomento relativo Sia alla guerra Nei cieli Che ai conflitti terreni E lo affronta Con grande energia E precisione Ne descrive L'origine causativa E lo sviluppo Negà Legale Ne anticipa Gli esiti finali Inevitabili Indicando la distruzione Degli agenti responsabili La chiave profetica In essa contenuta Con la periodica Puntuale conferma Degli avvenimenti Ha convalidato Maggiormente La sua credibilità Una credibilità Che va oltre Esclusivo atto Di fede cieca Chi volesse procedere In una direzione diversa Dovrebbe prima invalidare Con argomentazioni Che smentiscano Sopra ogni dubbio Quello contenuto Nella Bibbia Ma deve tenere presente Che in sé La piattaforma Eucadia Mascherata Da catalizzatore Universale Della coscienza collettiva Rappresenta Una nuova Oltraggiosa Sfida A Dio Roberto Che dire In realtà Oggi ha risposto A tutte queste obiezioni Ti puoi riascoltare Quelli che appena Ha detto a Carlo E si ripropongono Pari pari Nel tuo caso È essenziale Che tu continui A riflettere Su quello che hai scritto Roberto E' molto essenziale Che tu continui a riflettere Anzitutto Per un motivo Superficiale Cioè se tu ti senti In diritto Di pensare Di scrivere queste cose Allora vuol dire Che anche il musulmano Dirà La piattaforma Quindi come vedi Roberto Se tutti ragionassimo Come te In questo modo Resteremo Su questo pianeta Bambini E' proprio E' proprio E' proprio E' proprio chi rimane E' proprio chi rimane indietro E rimane indietro Perché non ha riflettuto Abbastanza Perché ha continuato A ragionare In maniera Superficiale Chiusa Proprio quello Non avrei mai detto Che sarei arrivato Un episodio Dieci Quindi già lo considero Un primo risultato E' un primo sviluppo Interessante Spero che questa Opera di ricerca Che sia personale Che collettiva Al tempo stesso Si stia rivelando Utile Non solo per me stesso Ma per gli altri E che dire Se lo ritieni interessante Come sempre Passa parola Il link di questo podcast E' www.tempodicambiare.it Quanto riguarda Me e te Ci sentiamo Giovedì prossimo Il mio augurio per te E Possa tu essere felice Questa settimana Il mio augurio per te Il mio augurio per te